Ciao a tutti, anche quest'anno è arrivato il Giro E, è una grandissima soddisfazione essere qui un'altra volta e soprattutto un motivo di grande orgoglio. Questo è un evento che secondo me ha un potenziale enorme e ovviamente il messaggio che vuole lanciare non è quello agonistico, ma è un messaggio di sostenibilità e anche di unione, ovviamente la bici elettrica dà la possibilità a tutti di pedalare, credo che questo sia il messaggio più forte che porta a Giro E e noi siamo un po' i rappresentanti di tutto questo. Dopo l'anno scorso abbiamo un po' sudato per cercare di portare avanti il Giro e ci hanno un po' bloccati a metà, quest'anno siamo molto fiduciosi, l'organizzazione ha messo in atto tutte le precauzioni per evitare problemi con i tamponi e tutto quanto, quindi quest'anno non vediamo l'ora di partire. Grazie a tutti!